In questo numero di AgriFood Magazine, fondi europei, nuova guida interattiva per le zone rurali, qualità degli alimenti, via libera al piano dei controlli per il 2024, riso asiatico, serve una clausola di salvaguardia. Pesticidi rilevati anche ad alta quota. La Commissione europea ha lanciato una nuova guida interattiva che traccia tutte le opportunità di finanziamento disponibili per le zone rurali. L'individuazione dell'opzione più appropriata non è sempre semplice per i potenziali beneficiari. Il pacchetto di strumenti per le zone rurali raccoglie opportunità provenienti da 26 diversi fondi dell'Unione, dalla politica agricola comune, ai fondi di coesione, a Orizzonte Europa e al dispositivo per la ripresa e la resilienza. In pochi clic gli imprenditori rurali e le autorità locali possono trovare i migliori finanziamenti disponibili per aiutarli a sviluppare il loro progetto. Questa nuova porta globale di accesso alle iniziative di sostegno disponibili per le zone rurali dell'Unione europea mira a dotare i richiedenti delle conoscenze e degli strumenti necessari per rispondere alle loro esigenze. I beneficiari possono essere autorità locali, istituzioni, imprese, associazioni e singoli individui. Il pacchetto di strumenti per le zone rurali fornisce ampi orientamenti su come sfruttare al meglio le opportunità disponibili. Gli utenti possono trarre ispirazione ed esplorare un'ampia gamma di esempi e studi di casi scoprendo come i fondi e i meccanismi di sostegno dell'Unione siano già stati attuati con successo. E' stato approvato il piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare per il 2024. L'obiettivo è contrastare pratiche sleali e assicurare ai cittadini elevati standard di qualità e salubrità degli alimenti. Il via libera al documento è arrivato dalla cabina di regia per i controlli agroalimentari voluta dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Via libera anche al Vademecum per i controlli per le aziende nel settore agroalimentare, un documento che indica le modalità delle azioni di monitoraggio della cabina di regia Interforze. Nel 2023 i controlli sull'agroalimentare effettuati sono stati oltre 191 mila. L'attività di monitoraggio sull'erogazione dei fondi europei inoltre ha portato ad accertare che gli aiuti indebitamente percepiti sono stati circa 98 milioni su un totale di poco meno di 190 milioni di euro. Il piano operativo dei controlli agroalimentari 2024 indica per ciascuna filiera le attività ispettive che si svolgeranno nell'anno in corso. L'obiettivo è quello di evitare inutili duplicazioni di controllo e tutelare i produttori onesti isolando coloro che attuano una concorrenza sleale anche sfruttando e utilizzando prodotti che arrivano da quei paesi che non rispettano le regole. Le importazioni di riso dalla Cambogia sono raddoppiate più 104% nell'ultima campagna di raccolta. Per questo motivo Coldiretti e filiera Italia hanno chiesto all'Unione Europea di introdurre una clausola di salvaguardia per tutelare i produttori europei e italiani in particolare dalla concorrenza sleale di altri produttori che invadono il mercato europeo in assenza di regole comuni. Le due associazioni hanno chiesto in tale ottica una modifica dell'articolo 29 della proposta della Commissione Europea introducendo come richiesto dal Parlamento l'attivazione automatica di una clausola di salvaguardia se le importazioni da un paese superano una soglia in termini di quantità evitando quello che sarebbe un vero e proprio dumping ai danni degli agricoltori europei con arrivi incontrollati di prodotto straniero senza alcun sistema di difesa. Basti ricordare, si legge nella missiva di Coldiretti e filiera Italia, che oggi oltre il 60% del riso importato dall'Italia è a Dazio agevolato. Inoltre l'Italia garantisce oltre il 50% della produzione di riso comunitaria. L'applicazione della clausola di salvaguardia dovrebbe essere accompagnata dalla previsione del principio di reciprocità volto a tutelare non solo la filiera ma anche i cittadini consumatori da prodotti con standard ambientali e qualitativi ben al di sotto delle produzioni europee e italiane. Nei paesi asiatici infatti è permesso l'uso di triciclazzolo, un pesticida vietato nell'Unione Europea. I pesticidi che vengono utilizzati in agricoltura non rimangono nell'area di coltivazione ma si trovano in tutta la valle e fino ad alte quote. Lo ha rilevato uno studio condotto dall'Università Kaiser-Slauten-Landau e dall'Università di Risorse Naturali e Scienze della Vita di Vienna che ha analizzato la situazione in Val Venosta, considerata la più grande area di coltivazione di mele d'Europa. I ricercatori hanno esaminato 11 transetti altitudinali lungo l'intero asse della valle, tratti che si estendono dal fondo valle a 500 metri sul livello del mare fino alle cime delle montagne a 2300 metri. Il team ha prelevato campioni ogni 300 metri e sebbene i pesticidi diminuiscano complessivamente ad altitudini più elevate e con la distanza dai meleti, l'analisi ha rilevato diverse sostanze in miscele nel suolo e nella vegetazione, anche nell'alta Val Venosta, dove non c'è quasi nessuna coltivazione di mele. Secondo i ricercatori, anche alle basse concentrazioni misurate, i pesticidi possono avere effetti subletali, cioè non direttamente letali, su organismi che non sono l'obiettivo del controllo. Lo studio mostra quindi una nuova dimensione del problema, poiché anche le aree più remote sono contaminate dai pesticidi. Le misure da mettere in campo, evidenzia il report, sono quelle della riduzione o addirittura il divieto dell'uso di pesticidi. Grazie.